Ciao a tutti amici Nero Azzurri, è sabato pomeriggio, sono più o meno le 6, tra circa mezz'oretta l'Inter partirà direzione Bologna Perché domani al Dallara si giocherà Bologna-Inter, esattamente così, roviera a breve l'arrivo della squadra e noi come sempre ci siamo Non è difficile? Andiamo qua, c'era No, però che ci siamo Sì, sì, primo che è l'uomo Non è un'altra, quindi la tua, non è un'altra Allora, alle quelle che ne erano Sì, 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 sì Sì, 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 sì Allora, alle quelle che ne erano Sì, sì, sì Allora, alle quelle che ne erano 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 Allora, alle beaucoup Allora, alle parede le volte Allora, alleilles Allora, alle colossi Allora, alle relative Allora, alle colossi Andalmi, ma che ne erano Allora, alle cose Allora, alle colossi Grazie. Grazie. Guarda, 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 guarda. 8.40 e l'Inter è partita direzione Bologna. Vuol dire che tra un'oretta più o meno sarà la stazione di Bologna? Sì, domani si scende in campo. Tutti presenti tranne, vabbè, l'infortunato Correa, Scrigna, Re di Marco. Dell'ultima ora. È vero, l'infortuno dell'ultima ora. Per il resto la squadra al completo con anche qualche giovane presente come avrete visto nel video. E questo era il nostro video della partenza dei ragazzi direzione Bologna. Domani saremo qui per il ritorno dei ragazzi da Bologna, sperando che sia un ritorno vincente. Saremo anche live su YouTube. Saremo anche live su YouTube più o meno dalle 12 e un quarto. Questo era il nostro video della partenza dei ragazzi da Bologna. Se vi è piaciuto mettetele a commentare, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Attivate la campanina per tutti i nostri video e tutte le nostre live. Passate da tutti i nostri social in descrizione. Vi ricordo che siamo anche su Twitch. Questa è una novità. Saremo tutti a seguirci. Noi ci vediamo a un prossimo video. A una prossima live. Forza Italia. Ciao. Ciao.